ma san d'oddio perché devo essere così incriminato vediamo come posso iniziare questo video ragazzi avete mai presente quello dice sempre le solite cose però più vai avanti e più ti cazzo ti sale il crimine una maniera nemmeno nemmeno il mostro di frenzi sale il suo cazzo di crimine qualcuno di voi si sta chiedendo perché cazzo ti ingazzi sempre ragazzi l'ho detto più più e più volte in questo cazzo di canale che mi ritrovo però alcune cose di youtube non mi vanno cazzo proprio a genio allora prima di tutto robo il cazzo coi bug fra gli iscritti per dare al canale a destra a sinistra poi robo il cazzo coi bug del cazzo del bar e poi cosa soprattutto più fondamentale è il cazzo del copyright che è una puttanata senza capo né coda un cazzo di cane è una puttanata oscena senza calcolare che i visualizzatori spariscono i strani motivi tutto ciò tutto ciò che cazzo mi porta perché sto schelerando in questo cazzo di modo semplice perché dopo tanto e tanti tanti copyright questa ragazzi sta cosa supera tutte supera veramente tutte la sto giorno mi trovavo un canale che non dirò il nome e non da un cristo di polverode allora e vedo questo canale cosa fa mette una canzone fatti i cazzi tuoi cazzo di canzone e che poi lui non mi metterò il copyright a me si e che la cosa che mi fa più incazzare più dissata ma che questo canale questo video che cazzo ho visto ha messo ha messo una cazzo di canzone che a me mi ha messo il copyright a lui no allora questo o non è normale di testa che ottieni un network che lo protegge o youtube mi passa per deficiente perché altre soluzioni non me le spiego perché non è cazzo possibile che youtube mi deve rompere il cazzo di copyright allora secondo me youtube siccome che è un figlio di puttana nemmeno le peggiori escono della faccia della terra è come youtube credo sinceramente youtube che io se chiamo un titolo che ne so questa canzone ha contenuti di copyright io invece riprendo che ne so un paesaggio sa come bella che youtube vedendo il titolo mi metto il copyright ma sono più che cazzo sicuro però io ti chiedo una cosa youtube è bello che ci sono questi copyright però youtube carissimo youtube che ormai sarà nel collasso sta diventando la puttana di tutti io mi auguro mi auguro che in futuro prima di mettere un cazzo di copyright in un cazzo di video abbi la pazienza e la cazzo di cortesia di valutare almeno i video dall'inizio alla fine è vero che non siamo canali piccoli non ve ne fotte un cazzo ci trate peggio delle puttane però abbi almeno il buon senso e ragazzi scusate per questo inesimo sforgo però youtube quando si tratta di copyright c'è sempre qualcosa che cazzo non va c'è sempre qualcosa che cazzo non va io spero che youtube fletterà in futuro quello che fa scusate ragazzi che voi annoiate per questo cazzo di video lo so che non ve ne freddo un cazzo però ragazzi veramente mi quando youtube fa così se è ingiustizia del cazzo mi fa lavorare di diventare un serial killer seriale vabbè ragazzi in conclusione ci vediamo ODA A presto